Più magri e più forti al punto da poter vivere almeno 10 anni in più rispetto a quella che sarebbe stata la loro prospettiva di vita senza entrare in sala operatoria. I benefici della chirurgia bariatrica per i grandi obesi sono ormai consolidati da decine di pubblicazioni, ma se in molti casi ci si è concentrati sulla valutazione dell'incidenza di nuove malattie correlate all'obesità, nell'ultimo studio pubblicato dall'American Medical Association il beneficio è stato misurato a lungo termine fino a 10 anni dopo e rispetto al fine ultimo dell'intervento l'aumento della sopravvivenza. A Gela e nel circondario sono più di 200 i pazienti che negli ultimi anni hanno deciso di sottoporsi all'intervento per eliminare quei chili di troppo che ormai erano diventati un pericolo costante per la loro salute. Ad eseguire l'operazione il professor Alberto Della Valle, primario di chirurgia generale dell'obesità presso l'Istituto Clinico Città Studi di Milano, socio fondatore della Cisiob che a Gela ha un team operativo da anni. Rispetto all'anno in corso purtroppo c'è stato il problema Covid per cui abbiamo un po' rallentato però nonostante tutto i nostri 35-40 casi quest'anno essendosi comunque fermati 4 mesi li abbiamo fatti e abbiamo ancora poi ottobre, novembre, dicembre per poterni fare. I vantaggi sono quelli di sconfiggere l'obesità con tutte le patologie associate che ha quindi non so al diabete, la pressione alta, problemi alla colonna, tutti questi problemi. L'unica sede della zona sia di Ragusa che qui a Gela del Cisiob è questa. L'unico chirurgo sono io fino a che verrò a Gela dove mi piace molto venire per tanti motivi e quindi ecco questa terna è sicuramente una terna valida per seguire anche dopo i pazienti perché il paziente operato e lasciato a sé può anche non dimagrire. Il paziente invece che viene seguito da un team e condotto durante la sua parte dimagrante sicuramente funziona molto meglio che non lasciando il paziente a se stesso. Nel team gelese del professor Della Valle è anche una psicologa e un nutrizionista, figure fondamentali per il percorso post-operatorio dei pazienti. È importante che il paziente riesca a gestire le emozioni, ad elaborarle e ad averne consapevolezza per evitare che possa rifugiarsi nel cibo. Un altro punto importante è il lavorare sull'aspettativa dell'intervento perché molte volte il paziente pensa che l'intervento sia qualcosa di magico che possa risolvere la propria vita. In realtà non è così perché l'intervento è soltanto un punto di inizio, non d'arrivo. La chirurgia bariatrica ha portato notevoli vantaggi a persone che hanno delle patologie, quindi a chi è migliorato la condizione di diabete, l'ipertensione e anche altre patologie correlate. Ripeto ancora una volta, i feedback sono stati positivi perché le persone adesso riescono ad avere uno stato di salute migliore e quindi vivono meglio. Ma sono le storie dei pazienti a rendere ancora più valide le evidenze scientifiche. Storie come quella di Cristina che appena un anno fa pesava 150 kg e che adesso dopo l'intervento sta seguendo il percorso terapeutico che le sta dando ottimi risultati. Ho perso 60 kg e mi sento un'altra persona. Ho cambiato la mia vita e lo farei un'altra 100 volte questo intervento. Io stavo malissimo, non potevo camminare, non potevo dormire la notte, stavo a temere sveglia e di quando ho fatto l'intervento mi sento un'altra persona. La mia vita quotidiana è che ora sto in mezzo alle persone, prima mi vergognavo a camminare, stare con le mie amiche. Ho passato un periodo troppo bruttissimo, veramente. ora sono felicissima. Adesso come stai? Ora sto benissimo, veramente. La mia vita è cambiata.